No, cosa semplice e veloce, faccio conoscere le congratulazioni di questo gruppo, lo faccio soprattutto ai giovani, a tutti i ragazzi che comunque veramente ci hanno messo l'animo per questa annata strepitosa. Congratulazioni al nostro Ministero. Grazie anche alla sua capacità, ha dato il maggior stimolo per i ragazzi, comunque serve soprattutto a voi per l'anno prossimo. Diciamo che finito questo anno molto glorioso, l'anno prossimo sia altrettanto e continuate sempre nel migliore dei modi. Diciamo ragazzi, nel momento di difficoltà, fatevi forza e non la partite. Un presidente, un presidente, un presidente, un presidente.